Ciao, sono Paolo Brada e ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Prima di lasciarti al video, ti ricordo che se ti va puoi iscriverti al canale, mettere mi piace e seguirmi anche sui social. Buona visione e ricordati di condividere il video. Così a scopo didattico, diciamo, di curiosità, ho voluto provare a smontare la troncatrice della Heinel TCMS2112, quella che, non so se vi ricordate, ci ho fatto un video tempo fa, si era spezzato il braccio che alza e abbassa la lama. Ora la sono smontata per vedere se c'era qualche cosa che si poteva recuperare. Magari, non so, inventarsi qualcos'altro. Questo, vabbè, è il suo avvolgimento. Qua ci sono le spazzole. L'ho appena smontato con le quattro viti. E niente, avvolgimento e spazzole sono buone. Il motore funziona ancora. Il cuscinetto posteriore non si è mai neanche messo male. L'indotto è buono. Però l'ho smontata soprattutto perché, avendo provato a metterla in moto, sentivo un rumore stranissimo. E ho sospettato subito che si trattasse di un ingranaggio eccessivamente consumato. Ho visto la data sulla macchina di fabbricazione. Marzo 2016. A me è stata donata a metà del 2017, quindi avrà lavorato sì o no un annetto. Senza considerare male il tempo che è stata anche ferma. Comunque sia, se noi giriamo l'indotto, questa parte dovrebbe girare, che è quella dove si attacca la lama. Ed effettivamente gira. Il problema è che se noi teniamo con la mano, lui non gira più. Svitiamo, così guardiamo in che stato ha l'ingranaggio. Ed eccolo qua. Ovviamente visto così tutto ingrassato e con la telecamera non si capirà granché. Però, visto con i propri occhi, vi posso garantire che è uno spettacolo a dir poco agghiacciante. In pratica alcuni denti non ci sono quasi più. Ci sono totalmente smangiati. Quello sull'indotto non sembra neanche messo male. Ma questo che fa del riduttore di giri e dall'alloggiamento per la lama è una cosa a dir poco indecente. E questo probabilmente neanche in un anno di lavoro. Quindi l'ho già detto nell'altro video, ve lo ripeto, per favore state lontani da questa macchina e possibilmente anche dalle altre della stessa fascia di prezzo perché sono soldi buttati e sono anche molto pericolose. Rischiate anche di farvi male, soprattutto. Ora io smonterò con le quattro cavolate che sono recuperabili e il resto vado a smaltirlo perché sono anche stufo di averla qui in laboratorio a occupare spazi. Intanto non vale neanche l'alluminio che pesa. Anche questo video è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un mi piace, la condivisione e l'iscrizione al canale sono più che graditi. Se volete, potete seguirmi anche su Facebook, Twitter e Instagram. cominciamo. Grazie a tutti.